Conosciamo tutti la cipria più resistente all'acqua del mondo, che è quella di SheGlam, ma adesso voglio fare un esperimento, voglio vedere se resiste proprio a tutto, quindi ho deciso di provare con la Coca-Cola e col mio in mente stupore resiste anche a quella, cioè raga, pazzesca questa cipria! Qui ho provato a tamponare per vedere cosa succedeva, ed è rimasta un po' macchiata, ma comunque non ha penetrato, quindi top veramente!